Tanta voglia di conoscere, tanta voglia di partecipare nel cambiamento della prossima Europa qui alla Scuola Politica, un'Europa che abbiamo visto essere estremamente sbilanciata punendo quello che sono gli interessi delle famiglie, delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, stando in modo pesante nell'azione, nell'avvantaggiare quello che è la finanza speculativa, quello che sono gli interessi delle multinazionali e allora l'obiettivo deve essere quello davvero di avere un'Europa diversa, un'Europa che non punti sugli insetti a casa nostra, sulle cavallette asiatiche a casa nostra, ma che valorizzi il Made in Italy, un'Europa che non butti risorse ad esempio sulla doppia sede di Strasburgo, ma investa quelle risorse sui giovani e sulle nostre imprese, un'Europa che sappia difendere i nostri confini, che sappia fermare la clandestinità, un'Europa che al posto di discutere dell'importanza dell'ora legale, l'ora solare per il bioritmo dei moscerini, si dedichi realmente a quanto serve alle nostre aziende, alle nostre famiglie, un'Europa che non rubi ogni volta 2 miliardi di Euro di IVA, 2 miliardi di Euro di IVA italiana finiscono nel carrozzone europeo, quando noi abbiamo la necessità invece di ridurre l'aliquota IVA per aiutare le nostre famiglie e le nostre imprese.